Eccoci, buongiorno, ciao! Allora fatemi sapere se ci siete, pare di sì, mi pare di vedervi collegati, ok? State arrivando. Bene, bentrovati. Oggi questa nuova diretta Instagram, il tema è quello del passaggio dal pannolino al vasino, visto che molte mi avete chiesto rispetto a questo argomento e chiaramente la stagione avanza e il momento si avvicina per molti dei vostri bimbi. Per cui vi darò alcune indicazioni rispetto a questo tema e se avete delle domande, nel caso scrivetele. Grazie, spero più che altro di riuscire a leggere le strada facendo, non mi sono ancora impratichita abbastanza da questo punto di vista. Vi segnalo che comunque sul sito di percorsiformativi06.it, se cercate con la lentina, digitate la parola vasino, vi viene fuori un mio articolo in due parti che parla proprio del passaggio dal pannolino al vasino e che quindi vi può essere di valido appoggio e supporto insieme a quello che vi dico in questo webinar. Scusate, in questa diretta Instagram ormai faccio casino tra tutti i vari luoghi dove mi trovo online, mamma mia! No, dicevo, quindi l'articolo sicuramente vi può essere di aiuto proprio perché vi fa da memo rispetto a quello che ci diciamo adesso e quindi insomma potete poi andarlo a consultare e tra l'altro nell'articolo c'è anche una bibliografia e di conseguenza se volete approfondire, insomma ci sono anche dei riferimenti bibliografici rispetto all'argomento. Bene, allora iniziamo a ragionare sul tema del passaggio per l'appunto dal pannolino al vasino, tema che strugge molti genitori i quali insomma si preoccupano molto di come potrà funzionare questo passaggio per l'appunto. Allora, iniziamo a darci una prima idea rispetto all'età, gli studi insomma rispetto a quella che più o meno all'incirca e su questo mi rifaccio da un punto di vista del riferimento bibliografico, mi rifaccio a Braselton, Il tuo bambino è da 0 a 3 anni, un testo molto bello, è utilissimo secondo me per i genitori, se non lo avete o non lo conoscete può essere veramente interessante. E allora Braselton ci dice che i bambini raggiungono in media lo spannolinamento cosiddetto intorno ai 28 mesi, questo è appunto la media, pertanto ci saranno bambini che iniziano prima e bambini che iniziano dopo, quindi ci sono bambini che già intorno all'anno e mezzo sono pronti, diciamo così, e poi dopo vediamo quali sono i segnali, bambini che invece arrivano un filo dopo e tendenzialmente intorno ai 4 anni comunque i bambini in media sono a posto, almeno di giorno, di notte lo stesso Braselton ci dice che i bambini potrebbero far fatica anche fino ai 5 anni, quindi c'è un maggior lasso di tempo prima che i bambini possano essere pronti a togliere il pannolino anche di notte, questo ovviamente perché ci sono alcuni bambini che fanno molta fatica di notte a svegliarsi e a recarsi in bagno per l'appunto per i propri bisogni, però andiamo per gradi, noi iniziamo dal giorno intanto prima di arrivare alla notte e abbiamo detto età media 28 mesi, qualcuno inizia prima, qualcuno dopo e pertanto questo io spero insomma che sia un'informazione che vi supporta e vi sostiene e soprattutto che non vi mandi troppo in angoscia rispetto all'età dei vostri bambini, quindi età media 28 mesi ma anche fino ai 4 anni i bambini potrebbero avere necessità di tempo per raggiungere questo traguardo di crescita. Quali sono i segnali per capire se il bambino è pronto? Perché prima vi ho detto se il bambino è pronto per l'appunto, vi ho detto bambini possono essere pronti già 18 mesi e altri pronti dopo. Il tema della prontezza è un tema fondamentale tenendo conto che tutti gli aspetti fisiologici della vita dei bambini, diciamo degli umani in generale ma ancor più dei bambini, gli aspetti fisiologici dicevo sono quelli dove noi dovremmo più che mai levare in alto le mani e lasciar fare i bambini, soprattutto tema cibo e tema appunto passaggio dal pannolino al vasino. Il tema cibo non lo affrontiamo nemmeno lungamente oggi, magari ci facciamo un'altra diretta più in là, limitiamoci al pannolino che già ne abbiamo. Perché vi dicevo le cose fisiologiche sono quelle da cui noi adulti dobbiamo tenere in alto le mani e non metterci becco, perché sono argomenti molto delicati, hanno a che fare con meccanismi molto delicati sia a livello fisico-fisiologico che a livello emotivo-psicologico per cui più lasciamo fare al bambino e gli diamo fiducia meglio è. Una delle difficoltà più grandi nel passaggio dal pannolino al vasino è legato al fatto che l'adulto spinge, che l'adulto decide quali sono secondo lui i tempi entro i quali il bambino deve fare il passaggio e qui ci si incastra malamente perché appunto il bambino deve essere pronto per fare questo passaggio dal pannolino al vasino, ci devono essere dei segnali e adesso vedremo quali, se questi segnali il bambino non ce li dà vuol dire che non è pronto al passaggio e ciò significa che se io adulto mi metto in mente che adesso lui deve fare sta cosa ci incricchiamo, tenendo conto che questo vale per gli umani a tutte le età che l'insistenza genera resistenza, pertanto più io insisto su qualcosa per cui il bambino non è pronto e più lui resiste, anche perché tutti gli aspetti fisiologici e soprattutto cibo e controllo degli sfinteri sono quelli su cui il bambino ha il pieno dominio del proprio corpo, cioè lui può decidere se mangiare o non mangiare, se urinare oppure no, defecare oppure no, perché può decidere ovviamente di trattenere tanto la pipì quanto le feci e lo sappiamo bene e soprattutto nella fase cosiddetta del negativismo o cosiddetti anche terribili due anni, perché in genere dai 18 mesi in su che i bambini si avvicinano anche al tema spannolinamento, ecco che allora lì se io forzo la mano, se insisto, se voglio come dire dirigere il bambino in maniera intensa, mettiamola così, ecco che il bambino può proprio per autoaffermazione mettermi un muro e quindi può decidere ovviamente in maniera inconscia, ma può decidere che non vuole mangiare, che non vuole urinare, che non vuole defecare, che non vuole passare al vasino eccetera eccetera. Pertanto è molto molto importante e questa è condizione base sine qua non, ok? Che l'adulto lavori su se stesso per restare il più possibile sereno e tranquillo di fronte a questo passaggio evolutivo, perché più io adulto vado in ansia, forzo la mano, insisto, spingo, più il bambino resiste, blocca, ritarda, ok? Quindi questo è la primissima, come dire, condizione base. Pertanto per tutti voi che siete all'ascolto adesso con la diretta o che mi ascolterete attraverso il podcast o che mi vedrete su youtube, sostanzialmente questo secondo me è uno degli aspetti chiave per lavorare con i bambini su questo passaggio e in realtà non soltanto. Quindi io adulto con me stesso, mollare la presa, fidarmi del bambino, fidarmi del fatto che nessun adulto viaggia ancora in giro col pannolino, ecco, e quindi diamo fiducia al bambino che con i suoi tempi ci arriva e osserviamo i segnali, per l'appunto che adesso vado ad elencare, che mi dicono che il bambino è pronto o si sta avvicinando a questo nuovo step di crescita. Allora, quali sono i vari punti da osservare? Allora, innanzitutto è importante che ci sia uno sviluppo nella comunicazione, principalmente di tipo linguistico, che quindi il bambino sia in grado di comunicarmi che ha bisogno di andare in bagno e comunicarmi quindi che ha necessità di scaricarsi. o di urinare o di defecare, insomma. Quindi lo sviluppo del linguaggio è un aspetto importante. Poi è vero che i bambini possono anche comunicare con linguaggio non verbale, per carità, però è ovvio che se io sono in cucina e non lo sto guardando il bambino, se mi fa un segnale non verbale, io poi me lo perdo, insomma. Ok? Quindi diciamo che il linguaggio, l'acquisizione del linguaggio verbale è uno degli aspetti importanti, anche perché comunque l'acquisizione del linguaggio verbale significa anche che il bambino ha acquisito degli aspetti, degli step di crescita anche sul piano simbolico e di rappresentazione cognitivo. Quindi c'è tutto un pacchetto, diciamo, di aspetti interrelati tra loro. Altro tema è quello dello sviluppo delle autonomie, cioè il bambino dovrebbe essere più o meno in grado di vestirsi e svestirsi da solo, quindi di tirarsi su e giù i pantaloni, su e giù la mutandina e quindi, insomma, deve avere una certa autonomia proprio nella gestione del suo corpo e dei suoi vestiti. Deve aver acquisito, cosa fondamentale, una maturazione fisiologica proprio del controllo degli sfinteri. Perché? Perché si parla infatti di un'età media dei 28 mesi e circa dai 18 mesi in su? Perché da un punto di vista fisiologico c'è un momento in cui il bambino diventa maturo su quel fronte, cioè inizia a sentire, giù da basso, che sta succedendo qualcosa. E questo sentire che sta succedendo qualcosa è un accadimento che il bambino fino a un giorno prima, due giorni prima, una settimana prima non aveva. Pertanto il bambino, finché non è maturo per l'appunto, per questo passaggio, non si accorge di farla. Quindi al suo pannolino, lascia andare la pipì, lascia andare le feci, non è più di tanto consapevole del fatto che sta lasciando andare. A un certo punto, quando per l'appunto la maturazione fisiologica arriva, per cui il bambino riesce a ricevere con consapevolezza il messaggio dal corpo che sta succedendo qualcosa per l'appunto, ecco che lì è come se il bambino scoprisse una nuova sensazione e qualcosa di nuovo che accade nel suo corpo. Per cui ve ne accorgete perché il bambino inizia a dirvi, o verbalmente o non verbalmente, cosa che fino a ieri per dire non faceva, inizia a dirvi, dicevo, che gli scappa la pipì o gli scappa la cacca e ve lo dice o mentre la sta facendo, o subito dopo, o subito prima. Quindi nel momento in cui voi vedete che il vostro bambino a livello verbale o non verbale vi dà un segnale per cui vi dice mamma, papà, sta succedendo qualcosa laggiù, vuol dire che la maturazione sta arrivando. Ovviamente io potrei vedere che prima me lo segnala dopo, poi magari me lo segnala durante, fino a che non arriva a segnalarmelo prima, ok? Però già anche se me lo segnala subito dopo averla fatta, vuol dire che comunque lui sta iniziando a percepire nel suo corpo qualcosa di diverso. E quindi è questo già un segnale per noi che ci indica che si sta muovendo qualcosa rispetto a questa tappa di crescita. Questo guardate che è un aspetto basilare, perché se il bambino non ha la consapevolezza del suo corpo e quindi non riesce di conseguenza a comunicare che sta succedendo qualcosa, è abbastanza inutile tentare di togliere il pannolino, perché questa è la condizione base, ok? Che vale più di tutte le altre, perché poi io potrei anche avere un bambino che magari a livello linguistico non è ancora così capace, potrei anche avere un bambino che a livello di autonomia nel vestirsi e svestirsi non è ancora così capace, ma che in realtà è comunque maturo dal punto di vista fisiologico per fare il passaggio. Quindi questo è il segnale più importante di tutti. Poi ovviamente è utile che ci sia un'autonomia nel gestire il proprio corpo e i propri abiti, uno sviluppo del linguaggio adeguato, non solo, anche un desiderio del bambino di diventare grande, perché a volte noi abbiamo bambini che sono pronti dal punto di vista fisico-fisiologico, ma che non sono pronti dal punto di vista emotivo, per cui il fatto di crescere e di diventare grandi è qualcosa per cui loro non sono ancora preparati e pertanto anche se da un punto di vista fisiologico ce la potrebbero anche fare, non sono disponibili a lasciare andare il pannolino e appunto utilizzare il vasino o il water per fare questo importante step di crescita, perché per il bambino è chiaro che farla sul waterino, sul water o sul vasino è comunque un passaggio significativo, anche perché poi mediamente gli adulti intorno non mancano di far notare in qualche maniera questa necessità di passare avanti. Pertanto appunto questo aspetto del desiderio del bambino di crescere e diventare grande è un altro degli elementi da tenere in considerazione per capire se il bambino è pronto a questo passaggio. Quindi abbiamo detto linguaggio, autonomia, consapevolezza del proprio corpo e quindi sentire che succede qualcosa e la volontà, il desiderio del bambino, di crescere, diventare grande e avviarsi verso questa nuova possibilità per lui. Quindi questi sono gli elementi principali. Un altro elemento che vi aggiungo è anche osservare che il bambino dirada durante la giornata i momenti in cui rilascia la pipì in primis, vabbè le feci non è detto, magari la fa una volta al giorno e magari neanche tutti i giorni, più che altro è sulla pipì che dobbiamo guardare. Quindi se il bambino vediamo che dirada la quantità di volte in cui la fa, anche quello è un segnale, così come anche che al risveglio dal sonnellino del pomeriggio si sveglia appunto col pannolino asciutto. Quindi anche quello è un altro elemento da tenere in considerazione, ok? Quindi vi ho dato già tutta una serie di aspetti da considerare. Poi, se vediamo che il nostro bambino è pronto perché ci ha dato questi segnali, ecco che noi possiamo fare il passaggio. Ora, passiamo al vasino, passiamo al vaterino, cosa facciamo? Qui ovviamente c'è molto un discorso di soggettività. Ci sono bambini che il passaggio dal pannolino al vaterino lo vivono molto bene, altri che invece non gradiscono il passaggio al vater. E adesso vediamo anche perché. Una cosa che comunque potete iniziare a fare, anche un filo prima che il bambino sia del tutto pronto, cioè che sia pronto a fare il passaggio e di procurarvi comunque un vasino, quindi già intorno ai 18-20 mesi, voi potete anche procurarvi un vasino, tenervelo in giro per casa o meglio, meglio ancora, all'inizio può anche essere un oggetto da tenere, un po' da presentare al bambino, poi in realtà va tenuto in bagno. e invitando il bambino anche da vestito, ok, a sedersi sul vasino per fare, finta, quindi come un gioco, di fare la pipì e la pupù come fanno mamma e papà. Quindi inizialmente si può benissimo fare appunto un discorso ludico dove andiamo in bagno a sederci sul vasino, facciamo finta di essere grandi e di farla lì. Quindi lo stesso si può fare ovviamente anche sul water con il riduttore, pertanto questo può essere già un primo passaggio. Dopodiché ovviamente spieghiamo al bambino a cosa serve il vasino oppure il riduttore del water, insomma chiaramente vedi che il papà e la mamma non la fanno nel pannolino, noi siamo grandi, la facciamo nel water, eccetera, insomma gli spieghiamo la faccenda, ovviamente con parole semplici, molto concrete, senza fare grandi filippiche o insomma grandi discorsi, in maniera appunto molto concreta e pratica. Dopodiché appunto nel momento in cui vediamo che il bambino comincia a avvicinarsi a questa possibilità per quei segnali che andiamo osservando di cui vi ho parlato prima, possiamo invitare il bambino. Cosa ne dici Giovanni se oggi proviamo a fare la pipì nel vasino? Facciamo una prova, dai! E gli togliamo il pallolino, ci sediamo con lui, vicino a lui, possiamo anche leggerci un libro, guardarci una storia, insomma passare del tempo chiacchierando come gradite e come dire fare un po' questo primo avvicinamento. Poi se il bambino non fa niente non c'è problema, non deve esserci la prestazione, quindi possiamo iniziare a sederci lì, stiamo lì un attimino, poi ci alziamo e andiamo avanti. Se il bambino la fa bene, se non la fa bene uguale, non forziamo, non commentiamo, va bene tutto. Quando il bambino inizia a produrre qualcosa nel vasino o nel water, scusate lo chiamo waterino ma comunque ci siamo capiti, e il water corriduttore, è molto importante evitare le super feste nazionali perché quello che spesso noi facciamo è di fare festa grande, chiamare tutti i parenti e amici fino al quarto grado per annunciare il lieto evento che il bambino l'ha fatta nel vasino o nel waterino. Non c'è bisogno di fare tutto questo grande clamore perché in realtà nel fare tutto questo grande clamore il bambino capisce che quello è un tema su cui i genitori sono molto sensibili e se per puro caso ha necessità di fare comunicazioni di altro genere potrebbe capitare che poi utilizzi il vasino come messaggio per dire magari di sue fatiche da altre parti e quindi leggi alla voce farsi la pipì o la cacca addosso oppure trattenerla oppure farla in giro per casa eccetera eccetera. Quindi se il bambino vede che quello è un argomento per noi molto significativo dice ah aspetta aspetta che registro l'informazione non perché in maniera come dire malevola ci voglia fare del male però registra il fatto che è un argomento che a noi tocca e quindi questo vuol dire che appunto inconsapevolmente perché non c'è volontà nei bambini così piccoli di fare male ovviamente o di dare fastidio ma potrebbe essere che lui utilizzi poi l'aspetto del controllo sfinterico per comunicare ai genitori una sua difficoltà una sua fatica, un suo disagio come accade anche col cibo il bambino che non mangia è una situazione abbastanza tipica quindi cerchiamo di limitare i nostri festeggiamenti possiamo anche dirgli ah caspita guarda l'hai fatta, hai visto? però in maniera insomma abbastanza limitata ecco ripeto senza suonare le trombe e dare l'annuncio al mondo se il bambino ha piacere di lasciare la pipì o la pupù per un certo tempo all'interno del vasino o nel vaterino possiamo anche concedere perché per i bambini lasciare andare qualcosa che è al proprio interno è proprio un modo di fare un regalo sostanzialmente ai propri genitori perché è donare una parte di sé e pertanto se il bambino ci dice che non la vuole buttare via subito va bene, guarda certo la pupù non è il massimo cercheremo chiaramente di limitare il più possibile il tempo sulla pipì è più facile ovviamente è importante in ogni modo che noi non giudichiamo in maniera negativa le produzioni del bambino per cui se noi iniziamo a dire ah che schifo la cacca senti che puzza dai ecco questo è da evitare perché è come se appunto lui si sentisse rifiutato in un regalo prezioso che ci ha fatto e quindi se noi iniziamo a criticare a svalutare quello che lui produce ecco che per il bambino può esserci proprio una come dire un intaccare la propria autostima è un sentire che quello che lui dona non è ben gradito è anche importante ma non solo in questa fase in generale evitare per esempio di usare il termine cacca come spesso si fa per le cose che il bambino non deve toccare quante volte adesso vabbè siamo confinati in casa però quante volte succede o vi è successo che magari siete in giro per strada il bambino vuole toccare qualcosa e voi gli dite ah no cacca non toccare è pericoloso fa schifo eccetera ecco questa è una di quelle robe che sarebbe meglio evitare sempre proprio per non collegare le produzioni poi spontanee ovviamente corporee del bambino con qualcosa di brutto di negativo di sbagliato di pericoloso eccetera eccetera ok quindi anche questo è un tema pertanto dicevo il bambino produce qualcosa se chiede di lasciare un attimo lì ok se no tanto meglio buttiamo via subito nel water e comunque diamo un tempo per cui a un certo punto ovviamente invitiamo il bambino a rovesciare il contenuto del vasino nel waterino tenete presente che anche rispetto al passaggio per molti bambini il vasino risulta più semplice da gestire del waterino perché perché il vasino è in basso il bambino riesce ad acquisire una posizione molto comoda appoggia i piedi a terra è molto stabile e questo è estremamente rassicurante inoltre il vasino non ha un buco che risucchia tutto e non ha uno sciacquone che fa un rumore infernale e tra l'altro chi di voi ha dei bambini magari altamente sensibili di cui ho parlato nella precedente diretta tenete presente che proprio il tema del waterino potrebbe essere più difficoltoso perché lo sciacquone potrebbe spaventare tanto e anche proprio il buco mentre invece ad alcuni non dà nessun tipo di fastidio diciamo di preoccupazione per chi non dimostra comunque di avere problemi anche nel passaggio al waterino o comunque se avete bambini che la fanno nel vasino e volete passare al waterino in ogni caso una cosa importante è oltre ad utilizzare il riduttore utilizzare un pedanino da tenere sotto i piedi avete presente immagino tutti e probabilmente molti di voi ce l'hanno in casa quella rialzino dell'IKEA con quella forma un po' semi non so che cosa tipo semicerchio via che tanti usano per aiutare i bambini ad arrivare al lavandino eccetera ecco quello è molto è molto utile perché per alcuni bambini il passaggio dal pannolino al waterino soprattutto appunto se non si passa dal vasino può essere difficile perché stare seduti sul waterino sul vaterino insomma senza poter appoggiare i piedi a terra per alcuni bambini è estremamente spaventoso perché il corpo del bambino non riesce a darsi un appoggio quindi non c'è una buona stabilità il bambino ha paura di cadere dentro il buco e anche se per noi è ovvio che il buco non lo risucchierà né ora né mai però il bambino potrebbe avere una paura irrazionale proprio legata a questo foro che tutto risucchia quindi il fatto che il piccolo possa appoggiare i piedi su un pedanino e quindi stabilizzarsi può essere veramente la chiave che risolve molte resistenze dei bambini pertanto se state facendo questo passaggio e vedete che il bambino fa fatica provate ad utilizzare il pedanino da mettere sotto i piedi del bambino e oltre al riduttore perché potrebbe effettivamente aiutare davvero tanto perché appunto il bambino deve sentirsi al sicuro dal punto di vista della postura che va ad assumere nel momento in cui si siede è per questo che vi dicevo anche che il vasino molti bambini lo gestiscono meglio perché appunto stanno i belli seduti tranquilli e non hanno timore di essere appunto di cadere rispetto allo sciacquone se il bambino se la sente può essere lui a tirarlo altrimenti lo potete fare voi non c'è problema quindi questo è un po' di base la cosa ovviamente adesso che il tempo migliora potete lasciare i bambini più scoperti in modo che sia anche più veloce diciamo lo svestirsi e il vestirsi è normale che in questo momento in cui c'è il passaggio dal pannolino al vasino vaterino è normale appunto che il bambino possa capitare che se la faccia addosso è un incidente di percorso che ovviamente può capitare così come quando ha iniziato a camminare più e più volte è caduto e quindi così come noi non ci scomponevamo quando al bambino succedeva di cadere a terra ai primi passi dovremmo noi adulti evitare di scomporci quando lui la fa in giro per casa pertanto nel momento in cui non ce la fa ad arrivare in tempo e quindi la fa o qui o lì o là sarà molto importante che noi evitiamo di sgridarlo ma possiamo semplicemente dirgli ah Giovanni non ti sei ricordato che era il momento di fare la pipì può succedere andiamo a cambiarci quindi in maniera molto semplice non sgridiamo non mortifichiamo evitiamo di umiliare non c'è bisogno di caricare questi aspetti per come dire accelerare i tempi perché mortificare umiliare il bambino non serve a niente se non a intaccare la sua autostima quindi evitiamo accuratamente questo tipo di modalità ci limitiamo proprio semplicemente a prendere atto ok altra cosa importante evitare di assillare il bambino ogni 10 minuti devi andare in bagno la devi fare ti scappa ok evitiamo anche questo per cui possiamo eventualmente ricordare al bambino una volta ogni tre quarti d'ora un'ora Giovanni forse adesso è il momento di andare in bagno preferir preferisci che ci andiamo insieme oppure vai da solo quindi non tanto mettere il bambino davanti a una scelta tipo vuoi andare in bagno perché è facile che il bambino ci dica no soprattutto se sta giocando ancora di più se è nella fase del negativismo della autoaffermazione è chiaro che quando noi chiediamo al bambino qualcosa la prima roba che ci arriva è un bel è secco no allora ci sono questa è una ma tante altre situazioni dove noi non dovremmo chiedere al bambino vuoi fare una certa roba o come anche adesso non si può uscire ma tipo vuoi metterti il cappotto che usciamo no non sono domande che si fanno ai bambini questa queste o vuoi mettere le scarpe no non si chiede sta roba perché è ovvio che il bambino dirà no quindi se non vogliamo un no come risposta al bambino la domanda non la dobbiamo fare pertanto faremo delle affermazioni Giovanni è ora di andare in bagno perché è un po' che non ci andiamo preferisci che ci andiamo insieme oppure vai da solo vuoi darmi la mano oppure andiamo di là e ti prendo in braccio come preferisci ok quindi io do al bambino la cosa per assodata lui può scegliere se farla in un modo o se farla in un altro ok questo è un aspetto che vi torna utile in tante situazioni tenetelo da conto per tanti tanti momenti perché appunto tante volte noi nel nostro voler essere genitori moderni e democratici chiediamo ai bambini se vogliono o non vogliono fare una serie di robe e poi ci lamentiamo quando loro si rifiutano allora in questi casi questa tecnica diciamo così si chiama la tecnica del si condizionato è proprio utile al bambino insomma perché la cosa già si farà è già un sì ecco ti stiamo già dicendo così è però ti sto dando la possibilità di scegliere la condizione quindi se farlo da solo se farlo con il mio aiuto se vuoi farlo prima o dopo se vuoi farlo prima il braccio destro e poi il sinistro se vuoi mettere prima la maglietta i pantaloni ok adesso ci vestiamo preferisci mettere prima la maglietta o i pantaloni adesso andiamo in bagno preferisci che ne so lavarti prima i denti o fare prima la doccia sparo a caso ok questo appunto vi torna utile in tante e tante situazioni pertanto dicevo se capita l'incidente nessun problema diamo al bambino l'osservazione del fatto che appunto si è dimenticato può capitare andiamo a cambiarci non lo assiliamo ogni dieci minuti quando reputiamo che sia venuto il momento poi voi conoscete i vostri bambini sapete anche un po' la loro tenuta per cui la loro autonomia diciamo ecco se sapete che più o meno il bambino avete già osservato che circa un'ora dura allora ogni ora gli potete dire guarda Luca adesso è ora di andare in bagno appunto andiamo di là in braccio oppure mi dai la mano vai da solo vengo con te e sostanzialmente gli date la possibilità di scegliere le modalità laddove il bambino faccia resistenza dopo un po' che vi eravate avviati a volte capitano per cui voi avete iniziato lo spannolinamento stava andando tutto liscio a un certo punto succede un blocco per cui il bambino che stava andando spedito si impianta lì e non vuole più farla nel vasino o nel vaterino che cosa fare in questi casi allora innanzitutto bisogna comprendere il bambino che cosa ci sta dicendo quindi qual è il motivo per cui si è bloccato è successo qualcosa in casa ieri l'altro ieri dato che era un po' stitico l'ha fatta particolarmente dura ha avuto male si è spaventato ci sono delle tensioni in casa insomma possono essere tante le situazioni allora in questi casi noi possiamo rispecchiare al bambino la situazione per esempio se ci rendiamo conto che questo accade casualmente che non è un caso ovviamente proprio dopo che magari ha avuto un episodio di stitichezza e gli ha fatto male posso proprio verbalizzare guarda Giorgio forse adesso hai un po' paura a farla perché l'altro giorno ti ha fatto tanto male fare la cacca è così e magari il bambino mi fa così con la testa eh guarda lo capisco può succedere sai a volte succede anche a noi grandi ma non è sempre così vedrai che la prossima volta andrà meglio proviamoci ancora e chiaramente accompagniamo un po' il bambino rispetto a questa delicatezza io sono con te ti accompagno può succedere non è niente di grave capisco che ti può spaventare ma io sono la tua mamma io sono il tuo papà ti assicuro che è tutto a posto vedrai che anche se un momento ti fa male poi passa do un po' un feedback al bambino se invece mi rendo conto che il problema è altrove perché magari c'è tensione in famiglia è successo qualcosa o magari che ne so il bambino ha visto o ha sentito qualche notizia alla televisione eccetera farò allora un lavoro su quel fronte lì quindi non vado a lavorare direttamente sulla pipì o sulla cacca ma lavorerò su quello che invece secondo me può essere il problema da un'altra parte e allora magari cercherò di proteggerlo rispetto alle notizie della televisione cercheremo di lavorare noi genitori sul clima che si respira in casa cercheremo di rassicurare il bambino con i mezzi che sappiamo e possiamo per farlo rilassare ecco per farlo sentire più tranquillo poi se gli incidenti si come si dice si ripetono più e più volte nel tempo allora potrebbe darsi che magari all'inizio il bambino preso dalla novità abbia come dire così saputo gestire il vasino o il vaterino le prime volte ma che sulla lunga distanza in realtà non sia davvero così pronto ma che sia stata proprio appunto solo la novità allora in questi casi c'è un falso mito che è quello del ah ma se gli ho tolto il pannolino non posso più rimetterglielo perché se no lo confondo non è vero lo dice tra l'altro non lo dico io lo dice Braselton ecco quindi fate riferimento a Braselton il bambino da 0 a 3 anni dove proprio Braselton dice se noi ci accorgiamo che in realtà il bambino non era in effetti così tanto pronto e quindi magari appunto all'inizio c'è la novità riesce a starci dietro poi in realtà di fatto non è ancora sufficientemente sul pezzo noi possiamo rimettergli il pannolino ovviamente glielo dobbiamo incorniciare nel senso non è che dall'oggi al domani glielo rimettiamo così senza dirgli niente gli faremo un brevissimo discorso dove diciamo caro Giovanni cara Lucia guarda abbiamo tolto il pannolino ma mi rendo conto che forse non è ancora così tanto il momento perché vedo che continui a farla per terra te la fai che ne so dietro la tenda ti metti lì e te la fai nelle mutandine piuttosto che forse non è ancora il momento guarda facciamo così rimettiamo ancora il pannolino per un pochino quando sei pronto riproviamo non c'è problema quindi si può fare si può rimettere il pannolino facendo un discorso al bambino dove gli si dice ho capito che non è ancora ora torniamo un attimo indietro ci riproviamo non succede niente di male perché se invece noi ci irrigidiamo sul fatto che ormai l'abbiamo tolto non si può più tornare indietro il rischio poi qual è che scarichiamo sul bambino la nostra frustrazione perché oggi e domani dopo domani che lui continua a farcela sul pavimento nelle mutande dietro la tenda comincia a darci fastidio e questo poi rischiamo di scaricarglielo addosso in termini di svalutazione umiliazione punizione sgridate eccetera e non è il caso assolutamente quindi meglio tornare sui propri passi non c'è niente di male siamo umani abbiamo il diritto di tornare indietro se non ci sentiamo pronti a fare un salto in avanti anche noi adulti non solo i bambini tra l'altro ok quindi tenetene tenetene conto questo ci tengo proprio a sottolinearlo perché c'è tantissimo quest'idea del ah quando l'hai tolto basta fine dei giochi e no perché poi lì si incastrano malamente tante situazioni di bambini che in realtà così pronti non erano non c'è la possibilità di tornare indietro perché il genitore non dà questa opzione e ci si incastra malamente ok quindi è un modo anche per garantire la sicurezza del bambino perché se poi il bambino per come dire osteggiare le nostre insistenze si mette a trattenere pipì e pupù e diventa un problema ok non è il caso di fargli venire un blocco intestinale men che meno in periodo di covid ecco non mi sembra proprio il caso di rischiare sta roba per cui vi suggerisco caldamente di prenderla alla leggera di non farvi venire i patemi d'animo anche perché se il bambino è pronto non solo fisiologicamente fisicamente ma anche psicologicamente il passaggio dal pannolino al vasino si fa in una settimana non ci vuole mica una vita è una cosa veloce perché se il bambino è sul pezzo lo fa in un attimo perché lui non vede l'ora non so come dire è lì pronto a fare il salto se invece non è così pronto e noi lo spingiamo è un problema ok quindi tenete conto proprio di questi aspetti va bene adesso guardo un attimo perché vedo che c'è qualche domanda ok e leggiamo un pochino cosa mi dite allora se ci sono tutti i segnali ma c'è rifiuto di mettersi sul vasino come vi ho detto la questione non è solo la fisiologia ma anche l'aspetto psicologico emotivo quindi il bambino deve desiderare di crescere e di diventare grande quindi come ho già detto in precedenza ci sono bambini che sono pronti dal punto di vista fisico ma non dal punto di vista della volontà di crescere e diventare grandi allora in questi casi è meglio aspettare un attimo poi ma se si siede sul vasino dice di aver fatto pipì e pupù ma non c'è nulla per lui invece c'è qualcosa certo in questi casi è che ovviamente lui è possibile che non abbia ancora perfezionato diciamo la percezione del suo corpo e noi possiamo metterla sul piano del gioco e per cui possiamo dire ah sì dai facciamo finta che l'hai fatta eccola qui la pipì guarda che bello la mettiamo sul piano ludico poi meglio un solo passaggio con gabinetto o meglio il doppio passaggio con pannolino vasino gabinetto fate voi non c'è un modo giusto o un modo sbagliato ok dipende anche tanto dai vostri bambini da quello che vedete che vi viene più comodo per i maschietti anche per esempio potete valutare se insegnargli a farla in piedi o seduto ovviamente nel caso dell'impiedi è chiaro che servirà il famoso pedanino perché se no non ci arriva chiaramente questo è anche una scelta vostra dell'usanza diciamo della vostra famiglia o meglio del papà ecco per cui decidete voi poi tre anni maschietto ancora col pannolino è tardi? no perché abbiamo detto che l'età media sono i 28 mesi per cui a tre anni ci può ancora stare cosa ne pensi delle mutandine training potrebbe essere quindi un passaggio anche intermedio è quello di utilizzare la mutandina pannolino diciamo per cui e anche perché facilita il bambino proprio nel acquisire i gesti di tirar su e tirar giù la mutandina quindi si può si può assolutamente utilizzare per quanto tempo provare prima di tornare indietro ma anche qui ovviamente dovete anche valutare voi in base al bambino però secondo me se voi vedete che fate i primi tentativi e il bambino magari poniamo inizio oggi la prima settimana va tutto bene magari succede solo un incidente dopodiché lui inizia invece a farsela addosso ogni due per tre e questo va avanti in maniera continuativa per tre quattro cinque giorni per me torniamo indietro cioè faccio un discorso al bambino dico guarda Luca forse non è ancora così il momento aspettiamo un attimo guarda ci riproviamo tra un paio di settimane tra un po' di tempo per cui diamo proprio questa possibilità al bambino una cosa che può capitare ecco vi aggiungo questo pezzo prima poi di salutarci e per il resto vi rimando all'articolo che ho scritto e di cui vi ho detto appunto che trovate sul sito una cosa che può capitare e che è abbastanza frequente in realtà è che i bambini acquisiscano la competenza a due velocità cioè che magari la pipì va via liscia e la cacca invece no o a volte al contrario la cacca il bambino impara velocemente e la pipì no può succedere perché comunque sono due canali diversi ovviamente per cui ci sono bambini che maturano prima è meglio sul fronte pipì o cacca e non sull'altro allora in questi casi nella mia esperienza è più frequente la fatica con la cacca quindi la pipì funziona meglio la cacca un po' meno allora in questi casi una cosa che anche si può fare se noi osserviamo che per esempio per fare la cacca il bambino fa fatica e invece per la pipì non ha problemi possiamo dirgli guarda Luca facciamo così ho visto che per la cacca si fa ancora un po' fatica a usare il vasino perché vedo che te la fai spesso addosso insomma forse non è ancora il momento facciamo così quando ti scappa me lo dici mettiamo il pannolino solo nel momento in cui hai bisogno di fare la cacca poi lo togliamo e lo buttiamo e ci cambiamo ok quindi questa è anche una cosa che si può fare cioè mettere proprio il pannolino solo ed esclusivamente per quel momento in cui il bambino ne ha necessità di nuovo mettendogli una cornice intorno quando noi aiutiamo i bambini a capire le cose non è un problema quindi anche qui il fatto di rimettergli il pannolino non è un problema perché io gli sto spiegando gli sto andando incontro gli sto dicendo guarda ho capito che non ce la fai che per te questo momento ancora non è venuto facciamo così usiamo ancora il pannolino per la cacca e nel frattempo invece la pipì la farai nel vasino nel water insomma dove vuoi insomma questi due sostanzialmente ok quindi anche questo è un aspetto da tenere in considerazione ovviamente in questa sede essendo una diretta instagram non abbiamo la possibilità di entrare nel merito delle specificità del singolo bambino del singolo caso è chiaro che possono esserci tutta una serie di sfaccettature tutta una serie di casistiche che chiaramente in questo momento non posso prendere in considerazione ci tenevo a darvi una come dire delle indicazioni generali quindi da una parte rispetto ai segnali di prontezza dall'altra parte su un modo di gestire la cosa con molta serenità e tranquillità tenendo anche conto che ci saranno appunto gli incidenti di percorso va bene è normale non c'è problema ovviamente la questione del torniamo indietro perché forse siamo troppo avanti va sulla frequenza c'è un conto e se il bambino se la fa addosso una tantum un conto e se tutti i giorni continua a farsela addosso e lì è evidente che non è pronto se invece in una settimana se la fa addosso tre volte va bene ci sta non c'è problema proseguiamo ok quindi come sempre la questione è legata alla frequenza con cui il bambino non riesce ad andare avanti su una su una questione in questo caso il tema del passaggio al vasino al vaterino ok spero che quanto ci siamo detti qui vi sia utile e se avete delle domande comunque nel caso scrivetemi e se posso ve le recupero o in una risposta privata o magari faccio qualche micro storia per darvi ulteriore rimando vi auguro un buon pomeriggio adesso grazie a Marzia ormai ho capito come salvare le dirette tenete conto che comunque questa diretta resterà per 24 ore nelle storie quindi se già anche solo tra 5 minuti andate nelle storie di percorsi formativi 06 e cliccate in basso a destra c'è proprio scritto in diretta e potete comunque riascoltare questo rivedere insomma questo video in ogni modo questa diretta la trasformerò in un podcast che troverete su Spreaker nel canale di percorsi formativi 06 e appena faremo il montaggio la metterò anche su youtube per cui avete modo insomma di recuperare i contenuti anche successivamente un abbraccio a tutti buon pomeriggio e vi ricordo l'articolo su percorsi formativi 06 punto it digitate dove c'è la lentina la parola la vasino e vi verrà fuori questo articolo in due parti dove parlo un po' di tutto quello che ci siamo detti oggi e altro a presto un abbraccio ciao 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 ciao